In Abruzzo saranno la qualità e la competenza di Luciano D'Amico a fare la differenza alle prossime elezioni regionali del 10 marzo. Ne è convinto Carlo Calenda, segretario nazionale di azione, che questa mattina nella sala consigliare del comune di Pescara ha incontrato i cittadini per sostenere la candidatura di D'Amico nella coalizione patto per l'Abruzzo. Ed ecco uno stralcio dell'ampia intervista che il segretario nazionale di azione ha rilasciato al direttore di Reteotto, Carmine Perantuono, durante la trasmissione Il Fatto. Noi sul piano nazionale siamo distantissimi dal Movimento 5 Stelle, su tantissimi temi. E tuttavia qui c'è un elemento che è non trascurabile, anzi direi fondamentale, cioè la qualità del candidato. Luciano D'Amico ha una serie di competenze che sono molto difficili da trovare insieme, perché è una persona che ha gestito molto bene tre aziende di trasporti decotte, rimettendole a posto. Ha gestito molto bene l'Università di Teramo, che era l'ultima o la penultima tra le università, diciamo, di centri medio-piccoli e l'ha fatta diventare la seconda in termini di qualità. Terzo perché è un economista. E quarto perché è un uomo di cultura. Queste quattro cose insieme si trovano molto raramente. Siccome alla fine noi pensiamo come azione che la differenza in politica, l'unica differenza sensata, è quella di portare persone che sono in grado di far accadere delle cose, io penso che in questo caso, e solo in questo caso, perché noi non abbiamo mai fatto un campo largo, chiamiamolo così, noi pensiamo che con lui si possa fare la differenza. Poi però bisogna vincere e bisogna anche governare insieme. Ecco, questa è l'esperienza che potrebbe preoccupare di più, viste le vicissitudini passate all'interno delle coalizioni ampie. Io su questo ho un ragionevole margine di certezza, perché il programma di D'Amico è molto chiaro. Intanto è veramente sovrapponibile al nostro. Noi avevamo elaborato un programma per le elezioni regionali e una delle condizioni per fare questa alleanza è proprio il fatto che venisse recepito dal Presidente. Ed è un programma che ha al centro la questione sanitaria, la questione dei trasporti e delle infrastrutture, la questione della politica industriale e del turismo. Tutti elementi su cui D'Amico ha competenze specifiche. Cioè noi possiamo promettere rivoluzione agli italiani, gliel'hanno premesse i Cinque Stelle, gliel'ha promessa Salvini, gliel'ha promessa la Meloni, ma il tema è solo nella qualità della classe dirigente, perché se no, come accade regolarmente in Italia, le migliori intenzioni, ma anche i proclami più altisonanti, finiscono assolutamente in nulla, nessuno riesce a realizzare niente. Allora ecco, noi abbiamo costruito azione su questa base, cioè sull'idea di lavorare molto sulla qualità della classe dirigente, che avesse esperienze prima della politica, di successo, e su un'agenda che è molto pragmatica e che non fa della lotta ideologica il centro dell'attività politica.